Se si desidera sospendere un token in Ipassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Poi, cliccate su Profili di accesso alla porta, e continuate a usare il menu a tendina, per trovare l'utente, e selezionare la credenziale che volete modificare. A questo punto è sufficiente fare clic sull'opzione Sospesa accanto alla dicitura Stato. Infine, fare clic su Salva prima di uscire. Grazie a tutti.